non hai questa sensibilità. E qui andiamo verso invece i problemi veri e propri su 10-20 anni protesici, il fatto che ci manca il feedback sulle protesi che noi mettiamo in bocca, il cervello non sa quanto forte sta stringendo e dove esattamente stanno toccando i denti. Questo è uno dei principali motivi, io potrei dire il 90% dei motivi per cui i denti si rompono, i denti artificiali. 10% scelta dei materiali, ma anche i migliori materiali se ne fai un uso scorretto oltre i limiti, anche quelli hanno il loro limite di rottura e si rompono. L'igiene così così, non è così determinante, l'igiene alla fine è un qualcosa che tu puoi sempre correggere, motivi il paziente col colorante e migliori l'igiene, ma il rischio di rottura c'è sempre, per quali motivi? Non solo perché il paziente magari non si limita in quello che mangia, ma magari anche degli spasmi muscolari notturni, quante volte avete avuto uno spasmo di notte? Delle volte anche io ho rischiato di rompere i denti di notte, magari facevo l'incubo e ho avuto uno spasmo, una contrazione in lateralità, oppure che parlavo e mi è scappata la mandibola e sono morso la lingua, nella migliore dei casi, oppure proprio ho mandato i denti al contrario e ho tirato. Sapendo che c'è questo limite, lì bisogna andare a creare che cosa? Nella protesi delle ritenzioni sui denti. Vedete qua, questa la potete passare tra di voi e la struttura interna in titanio ha delle ritenzioni per i singoli denti, cioè i singoli denti che vengono poi messi sopra, che sono composito, zirconio, poi sopra vedi ci sono, queste vanno finite di ceramizzare, però sono le strutture, perché ci possono essere forze di flessione, per cui è meglio mettere un qualcosa che trattiene, che sia pectone o titanio, dentro serve qualcosa che trattiene il materiale. Qua parliamo proprio di una, no è leggero quello, è leggero alla fine, ve lo schematizzo così capite l'importanza delle ritenzioni all'interno della protesi, la protesi se non ha le ritenzioni c'è il rischio che poi si staccano i denti. Questa è una barra liscia e ci metto i denti sopra, questa è la barra per esempio in titanio sotto e immersi ci sono i denti con la resina e ve l'ho fatta vedere prima, vi faccio vedere anzi qua, ok la vedete qua, quella lì su, è una barra liscia, qui c'ha i denti in plastica, in resina e vi ho detto che si possono, che trattengono cibo, ma se strappa c'è altro rischio che si rompono. Qua c'ha delle piccole ritenzioni che già vanno meglio. Macromeccanica, sì, un pin che entra dentro e che evita che le cose si stacchino, ti faccio vedere un'altra, una radiografia per esempio di una linea premium dove vedi bene, bene, bene queste ritenzioni, ecco qua per esempio, per ogni singolo dente c'ho la ritenzione in titanio, poi quella entra dentro il pecton e sopra ci metto il dente, ok? Questo è un altro, delle volte le puoi fare, i bimateriali, delle volte ti conviene invece usare solo il pecton, invece che mettere il titanio, dipende da caso a caso, da quanto è anziana la bocca, non il paziente, la bocca, quanto è scoordinata. Come? Puoi fare ritenzioni, sì, però devi avere spessore, se non hai spessore il pecton c'è il rischio, vedi qua non avevamo tanto spessore per fare solo pecton, se io mettevo solamente pecton così, qua si rompe, capito? Allora ho bisogno di una barra sotto che mi sostiene. La barra va solo sotto? La barra va solo sotto? Sì, sì, sì. Poi fuori simulo i denti con lo zirconio per esempio, potrebbe essere anche composito, ok? Ma quello che è importante è quello che tu metti sotto, sotto l'ideale è avere materiali che sono simili all'osso, il pecton, però quando hai poco spazio, quando hai molto spazio puoi fare solo pecton e devi comunque avere i denti che cadono, dove cadono gli impianti, per esempio zigomatici che cadono molto indietro gli impianti, i denti saranno avanti, conviene tutto titanio, se no questa leva fa rompere tutto, perché i denti sono qua, gli impianti sono qua, mastica oggi, domani, questo flette si rompe, è un polimero quello, va bene per assorberne bene gli stress e compressione, ma non flessione, c'ha dei limiti anche qui, ogni materiale ha un pro e un contro, per quello che accoppiate dei materiali ci riescono a risolvere le cose, sfruttiamo il pro di un materiale unito al pro di un altro materiale, i monomateriali hai sempre problemi, quando poi vai, vi volevo far vedere la radiografia proprio di com'è questa linea, ve l'avevo messa, eccola qua su, eccoli qua, no artificiale, sembra, fatta bene, è realistica, vedete i pin qua, questi sono dei pin più lunghi che vanno sicuramente meglio di questi, questi sono meno ritentivi di questi, qua ho i singoli denti che hanno proprio un pin di titanio che gli entra dentro, qua vedete, se zoomo, tutte le componenti di cui vi ho parlato, c'è l'impianto nell'osso, questo è il piattello su cui poggia poi la protesi, ok, questa è la protesi, questo è il piattello che serve a unire la protesi con l'impianto, il multi unit, e dentro c'ha una vite che lo unisce, lo tiene, è tipo l'ancora e poi tira, l'abatment, il pilastro, si chiama pilastro ma non è un pilastro, è un piattello, quando tu metti un dente puoi mettere il pilastro che esce fuori e cementi il dente, ma quando hai tanti impianti, gli impianti sono tutti sghembi tra loro, devi poggiare una protesi che non può andarsi a infilare su tanti pilastri che escono così dalle gengive, elimina i pilastri, metti dei piattelli, poggia la protesi, stringi, i piattelli sono avvitati dentro agli impianti, quel foro che hanno gli impianti lì dentro è il foro che serve all'ancora, e l'ancora è una vite che si inserisce, blocca il piattello poi su quello, e poi c'è un'altra vite che blocca i denti proprio al piattello, ve la faccio vedere su quell'altra slide che c'era prima, questa te lo fa capire bene, ecco qua, hai l'ancora che sarà questa nera, che c'ha la filettatura, che entra dentro il piattello, l'abatment, che è uno snodo meccanico, che si inserisce dentro l'impianto, si incastra, c'ha un incastro, qua vai e fa tac, e questo va a stringere e lo tiene unito, poi qua c'è un altro foro per l'altra vite che unisce la protesi, non c'è colla, non c'è cemento qua, perché la parte debole è sempre il cemento, la colla, che dopo un po' si scioglie, capito? Questo invece è l'altro pilastro, hai praticamente l'abatment che finisce con una vite, è tutto un pezzo unico, si avvita e poi qua sopra un altro foro che serve per questa vite, quindi è ai gioco tra questo piattello e il piattello che ci andrà sopra, di modo che non ci siano tensioni, questa è una protesi incollata, questi sono gli abatment, quelli che vi ho fatto vedere prima in lastra, gli abatment questi che fanno uscire dritti, che costano 10 euro in meno, quindi risparmiano pochi soldi e mettono la protesi sopra incollata, questa è la cementata, questi sono i buchi, gli alloggi dove mettono la colla e poi la zeppano sopra quei pilastri, hai due tipi di problemi, intanto c'hai due tipi di cementi che puoi usare, o quello definitivo o il semi definitivo, l'implacem, il semi definitivo si scioglie, se si scioglie ci va la saliva poi dentro, perché si scioglie il gap di cemento che c'era, ci entra saliva con i batteri, col film batterico e iniziala per implantite e ci perde gli impianti, oltre questo, quella vi ho detto è un qualcosa che va a tirare poi sugli impianti, vedi che sono tutti sghembi, anche per quanto provano a limare, questo è un lavoro molto sporco, qua con la fresa limato per cercare di far entrare i denti, ma non è il modo corretto di fare una protesi questa, di connetterla, qua dovrà usare il cemento e il cemento cosa fa? Fa infiammare tutte le gengive attorno, la precisione per il cemento tollerata è 0,12 micron, che è lo spessore di un capello, se tu hai uno spazio maggiore, quel cemento irrita la gengiva e ti viene la perimplantite, siccome qua non c'è la precisione di un capello, qua c'è, questa non penso neanche che entra la protesi, qua la devi tagliare in più pezzi per farla entrare la protesi, vedi che è molto sporca qua la preparazione, questi non ci devono essere, invece ci devono essere questi, i piattelli su cui si poggia la protesi, questa è la maniera corretta di connettere gli impianti, questa è la maniera scorretta e questa è una cosa che non sa nessuno, anche molti colleghi la sottovalutano questa cosa, perché facendo magari poche protesi non ti ci metti neanche a ragionare sui motivi per cui magari quell'impianto ha avuto infiammazione o l'hai perduto eccetera, quando invece ne fai tanti inizi a ragionare su come abbattere i problemi e capisci che non usare le colle e i cementi è meglio, perché sono la parte debole, invece io preferisco avere una connessione che è meccanica, che in caso di problemi, vi faccio vedere qua, se io ho problemi su questi impianti per esempio io ho un abatment che ha un foro con la vite che entra direttamente dentro all'impianto, si ancora, all'altro modo se ho problemi sulla protesi svito l'altra vite, ma l'altra vite che si avvita sull'abatment, se quello si spana io sviterò una volta quella che connette l'abatment, cambio l'abatment e rimetto la protesi nuova, cioè mi danno anche più durata poi nel tempo in caso di problemi, mi danno più chance di poter rintervenire, qua se io devo togliere col cemento definitivo sta protesi, la devo tagliare per toglierla, non si stacca più, invece l'altro io cosa faccio? Stacco il tappino, ve la faccio vedere qui, svito, eccola qua una protesi finita, vedi qua i tappini, ve li faccio vedere, eccoli qua, uno e due, questi sono i fori di accesso della protesi, eccoli qua, si vedono? ok, se si vedono è meglio, perché se dobbiamo intervenire sappiamo dove dobbiamo togliere i bulloni, per cambiare la ruota, se invece questa era incollata, qua era tutto un monoblocco, non si vedeva nulla, dovevo o col martelletto iniziare a dare martellate, oppure tagliare, fresare, avete mai provato il martelletto? ok, non è piacevole, c'è il rischio che si rompono poi i materiali, quando dai colpi o peggio si rompe la vite dentro all'impianto, è una cosa da non fare mai, smartellare, tirare sopra agli impianti dentali, perché gli impianti hanno delle viti che si possono spezzare all'interno, se quella si spezza, supponi che io ho un impianto dentale, all'interno abbiamo detto, c'è un foro dove c'è la filettatura, qua attorno, con una vite che entra dentro e poi c'è quel pilastro, quello incollato, cementato, io per togliere devo smartellare qua, c'è il rischio della vite, questa si spezza, a quel punto devo carotare via l'impianto, quello è l'unico modo che rimane, o carotarlo oppure cercare di svitarlo, spezzo questo, faccio un foro, metto un tronco di cono che gira al contrario, che si incastra e svita, cerca di svitare, ma se questo è integrato nell'osso, anche se giri non sviti nulla, giri il paziente, e quella non è una cosa da poco, perché là proprio da poco stavo facendo una revisione, sto preparando la parte che dobbiamo fare a Firenze, dove parlo di bocca bionica, di come si comporta in maniera differente dalla bocca naturale, voi pensate come è fatta una dentatura naturale, vi faccio vedere una lastra di una bocca naturale, quante radici abbiamo? Una per dente, abbiamo giusto? Secondo voi la bocca naturale, allora eccola qua, è un apparato flessibile o rigido? Certo, è molto flessibile, ogni singolo dente lì flette, si muove, vi ho detto, poi è cosa? Sensibilità, è sensibile, voi pensate un'arte artificiale ha la stessa flessibilità di un'arte naturale o no? Completamente diversa la flessibilità, ho la mano che mi si muove così, o sono limitato, io invece sono molto più flessibile, stessa cosa è nella bocca, nella dentatura, ho tolleranza, posso anche schiacciare e rompere un osso, è difficile che si rompa un dente, invece una bocca artificiale c'è alta probabilità che si rompe. Questa è una bocca bionica, e io non scherzo quando dico che è una bocca bionica, non c'entra nulla con la natura. Questo è un apparato con osso, dentina, smalto, qua c'ho titanio, composito, zirconio, polimeri, non sono sensibili, qua ho anche i denti del giudizio, ma arrivano fino a dietro, posso masticare le noci anche con gli ultimi denti, qua è un'arcata più piccola, più corta, non arrivo fin là dietro, qua c'ho viti e non ho, è una macchina senza ammortizzatori, questa è una macchina con gli ammortizzatori, e se qua vado vicino al punto di flessione, di rottura, ti viene dolore e ti fermi prima, qua non senti dolore, te ne accorgi che hai sorpassato il limite perché si rompe e te lo ritrovi in mano e dici si è rotto, perché si è rotto? Perché mangiavi cibi duri o perché non avevi il controllo mentre mangiavi? Perché non avevi il controllo. Corretto. Ok, il paziente ne accolpa fino a un certo punto, quello che noi possiamo dire al paziente è limitati visivamente, sai che alcuni cibi li puoi mangiare e altri no, sono vietati. Sai che l'uovo, le fettine le puoi mangiare, ci sono i cibi X vietati che non si possono mangiare, devo fare la lista di quei cibi, tipo le torte che hanno gusci di, possono avere i gusci di noci dentro alle torte, ci possono essere gusci di frutta secca, che quando anche quelli non li senti quando mangi le torte, però te ne accorgi dopo, il riso, il riso è vietato perché ci sono le pietroline in mezzo al riso, a meno che non lo setacci bene, quello rompe in assoluto, più denti in assoluto il riso perché c'è, specialmente quando è sporco. Prima si controllava, oggi da quando lo compri sale grosso, meglio usare sempre il salino, quando ho il sale fino.